Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Oggi nel pomeriggio è in programma un sit-in davanti al Ministero dei Trasporti a Porta Pia con possibili ripercussioni per la viabilità della zona. Ci spostiamo in Prati, inizia oggi con la consegna dell'area di cantiere l'intervento su via Ottaviano per la riqualificazione del percorso pedonale nell'ambito dei lavori programmati per il giubileo del 2025. Prevista la chiusura al traffico della strada con la deviazione delle linee 19 bus 32 590, 913 982 e N3D.